Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Dato che i Rush Duel sono usciti fuori dei nuovi monarchi Perché non andare a vedere che cosa fanno? Magari qualcuno poi ce lo riportano anche nel TCG Ovviamente non verranno riportati questi Però potrebbero essere da monito per magari fare arrivare un qualcosa di simile Dato che comunque un monarca di livello 10 è abbastanza grosso poi arriverà Prima di iniziare ragazzi come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale Per rimanere sempre aggiornati con il mondo di Yugi Mi raccomando ragazzi è importantissimo Grazie mille Obiettivo sempre 4.000 iscritti magari a derivarci E niente partiamo partiamo Allora andiamo a vedere questi nuovi monarchi Estrom the Mega Monarch Allora possiamo tributare Questa carta è posizione di attacco tributando un mostro scoperto di 05 O superiore con 1000 di difesa Lui è di livello 8 Ok Costo durante il turno che viene evocato tramite i tribuni Posizione di attacco Effetto l'avversario Sceglie una carta sul suo terreno E spacchiamo un'altra carta su entrambi i terreni Ok Estrom the Mega Tra l'altro il monarch Monarca qui Il rush duel è devastante Perché puoi fare quante normal ti pare Quindi Estrom The Star Monarch Allora durante il turno in cui viene evocato l'attacco Distruggiamo un mostro scoperto di 06 Un inferiore Un mostro effetto sul terreno dell'avversario Ok Bellissimo Evel the Star Vassal Durante il turno in cui abbiamo normalato questa carta Mischiamo due mostri con 1000 di difesa Dal cimitero del mazzo L'avversario è speciale a un mostro di 06 Un effetto dal suo cimitero Sul suo terreno scoperto in difesa Poi possiamo aggiungere un mostro allo 5 Superiore con 1000 di difesa Dal cimitero alla mano Ci ricicla un po' di monarchia Anche se l'avversario poi E' un specialmente un mostro Penso che comunque le carte per toglierlo Ce l'aviamo Wow Lui Lui Sì che ha il suo stile Willel Il Mega Monarchia Possiamo tributarlo sempre Tributando un mostro allo 5 Superiore con 1000 di difesa Durante il turno in cui viene evocato Tramite il tributo In potenzione di attacco L'avversario c'era una carta Sul suo terreno E noi spacchiamo quella carta Ok Il problema è che esce la figlia L'avversario Quindi Oddio Però Non mi ricordo No Non ce l'ava in phase 2 Qua Ok Pensavo che potesse essere un po' più forte Però insomma Willel Wins Moon Monarch Durante il turno in cui viene evocato Tramite il tributo Nell'attacco Guardiamo una carta coperta Maggio Trappola dell'avversario Se quella carta è una magia La spacchiamo E' praticamente una nulla Carta Maggio Monarchia Zaborg Ok Che poi hanno messo anche Testalos Zuse The Wins Moon Vassal E' il costo Durante il turno in cui viene evocato Normalmente Mischiamo due mostri Con 1000 di difesa Dal cimitero del mazzo L'avversario Setta una magia Dal suo cimitero Sul terreno Poi aggiungiamo mostri allo 5 O superiore Con 1000 di difesa Dal cimitero alla mano Praticamente per riprendere quello di prima E spaccargliela di nuovo E' tanto per avere monarchi Che poi vanno a spaccare le carte Che l'avversario si va a settare Vabbè lui è praticamente Sevol Un sacco di mazzi Rush 2 Advance impact Se non abbiamo mostri sul terreno Sciogliamo un mostro scoperto Sul terreno dell'avversario E mandiamo un mostro Dalla mano Al cimitero Il cui totale Del livello Sia uguale Al mostro scelto Questo turno Se vogliamo evocare Tramite il tributo Un mostro Possiamo tributare Quel mostro dell'avversario Ok Invece di un mostro Sul nostro terreno Praticamente Tempesta avanzata Con molta più Richiesta Hammer crush Mandiamo una carta Dalla mano al cimitero Spacchiamola Prendiamo troppo Sul terreno dell'oppo Bello Emperor Realm Costo Attiviamo questa carta Mandando le prime delle carte Dal deck al cimitero In modo che poi Dele vuoi andare a riprendere Quando questa carta Scoperta Nella zona del terreno Il mostro Dello 5 Superiore Sul terreno Con Difesa Originale 1000 Guadagnano 400 Di attacco In modo che Tutti i megamonarchi Da 2004 Arrivano a 2008 E i monarchi Normali Da 2000 Passano a 2004 Tralasciando Zabor Che testa Macchinazione Dei monarchi Quando l'avversario Normale A un mostro Mentre abbiamo Un mostro Di livello 5 Superiore Con 1000 Di difesa Sul terreno Cambiamo La posizione Del mostro In coperta Poi aggiungiamo Un mostro Di livello 5 Superiore Con difesa 1000 Dal cimitero Alla mano Nativity Of the monarch Il costo Quando l'avversario Evoca Un mostro Di livello 8 O inferiore Scoperto Mandiamo Un mostro Dal terreno Al cimitero Evochiamo Specialmente Un mostro Di livello 5 O superiore Con 1000 Di difesa Dalla mano Sul terreno Scoperto Evochiamo Scoperto Evochiamo Scoperto Tutto Il mostro Il mostro Il mostro Evochiamo Monarchi Molto 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 Fighi Mi piace Partimamente Lui Di artwork E lui Lui è veramente Fighissimo E Il La zona Questa C'ha un effetto Abbastanza figo E questo Questo è veramente Molto molto figo C'ha veramente Una artwork Pazzesca Sembra tanto Panteism Ma ovviamente In versione Lace 2 Con un effetto Molto più scarso Però insomma Molto molto figo Detto questo Ragazzi Fatemi sapere assolutamente Voi cosa ne pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti